E' la sede del congresso, la sede del congresso, cioè del senato della camera della politica ciliega dall'inglese, il salvatore della distruzione, ma è un diventissimo temporale, una cosa divertente, la faccio capire in cioccare e girata verso l'est, si supponeva che la città si stava più sviluppata in quella direzione che per questo motivo il capito è rivolta alle spalle alla parte principale della città. Ottimo!